buongiorno a tutti quest'oggi ci troviamo a noventa vicentina in provincia di vicenza in uno dei campi sperimentali di kvs italia e siamo qui per parlare di mais e nello specifico siamo qui per parlare di breeding di ricerca e di selezione selezione rispetto a cosa beh selezione rispetto alle micosi sulla spiga quindi a quei patogeni quei patogeni fungini che causano un danno non solo dal punto di vista quantitativo sulle produzioni di mais ma anche qualitativo perché causano le famigerate micotossine all'interno delle attività di selezione portate avanti dalla stazione di ricerca di monselice ruolo importante gioca l'attività di inoculo artificiale di ceppi di funghi tossigeni all'interno di ibridi e linee che vengono selezionate qui presso la stazione di monselice l'attività di inoculo si rende necessaria poiché le condizioni atmosferiche e ambientali non ogni anno ci consentono la possibilità di valutare la presenza del fungo infatti queste condizioni non sempre sono ottimali per lo sviluppo del fungo stesso in questo senso l'inoculo è garanzia di selezione e valutazione continuativa perché ci consente di valutare e selezionare linee tolleranti e resistenti a tali patogeni ogni anno i principali ceppi che vengono inoculati artificialmente sono del genere fusaria quindi parliamo di fusarium verticelloides e fusarium graminarum e del ceppo aspergillus in questo caso parliamo dei ceppi di aspergillus flavus che hanno una peculiarità questi ceppi infatti sono atossici sono stati sviluppati dall'università degli studi di padova attraverso il sequenziamento e successiva selezione di dei ceppi di campo che manifestavano questa peculiarità quindi il non sviluppo della tossina stessa questa accortezza si è resa necessaria a causa dell'elevata tossicità del prodotto metabolico dell'aspergillus stesso cioè la flatossina le procedure di inoculo artificiale possono essere suddivise in tre categorie la silk channel inoculation la kernel inoculation e la silk aspersion inoculation queste tre tipologie vogliono riprodurre artificialmente i processi naturali attraverso i quali funghi entrano e contaminano la spiga la silk channel inoculation è una procedura di inoculo che avviene attraverso la sospensione di una soluzione di ceppi fungini all'interno del canale delle sete della spiga questa inoculazione viene eseguita 4-6 giorni dopo l'emissione delle sete stesse quindi con sete ancora vitali e recettive in questo caso specifico si vuole simulare l'ingresso del fusarium graminearum patogeno i cui prodotti metabolici sono denominati D.O.N. quindi deossivalenolo zeralenone e altri sottoprodotti comunque sempre microtossine potenzialmente dannose per le produzioni agricole la kernel inoculation consiste nell'inoculazione di ceppi fungini attraverso l'utilizzo di una speciale forchetta che incide la cariossida e quindi danneggia le granelle di mais in questo caso vogliamo simulare l'ingresso del fusarium verticelloides attraverso uno dei suoi vettori principali cioè la larva di piralide infatti la larva di piralide stessa attraverso il morso inocula il ceppo fungino all'interno delle cariossidi la silk aspersion inoculation invece consiste in una tecnologia di inoculo che avviene attraverso la vaporizzazione di una soluzione contenente cariche fungine direttamente sulle sete questo avviene in uno stadio fenologico in cui le sete sono ormai deiescenti o semi deiescenti e quindi incapaci di contrastare l'ingresso del fungo stesso questa specifica tecnologia viene utilizzata per inoculare i ceppi attossici di aspergisus flavus sulle sete al momento della raccolta tutte le spighe inoculate verranno raccolte e valutate verrà valutata la percentuale di contaminazione fungina presente su ogni spiga questo avviene eseguito attraverso l'utilizzo di una scala che va da 1 a 7 1 corrisponde alla totale assenza di fungo sulla spiga 7 corrisponde a una presenza di fungo sulla spiga superiore al 75 per cento della superficie totale grazie a questa importantissima attività di selezione kvs italia ha sviluppato linee parentali e ibridi con ottime tolleranze alle principali fusare tossine presente sul areale maidico di italiano gli agricoltori e allevatori italiani possono quindi scegliere varietà di mais che siano soddisfacenti non soltanto da un punto di vista produttivo ma anche qualitativo grazie a tutti grazie grazie grazie